Impegno e solidarietà, primo bilancio ad un anno dalla nascita della Fondazione Christian House, una giornata di incontri a Città della Scienza per fare il punto sulle diverse attività messe in campo nel segno dell'assistenza ai più deboli. Grande attenzione ai rifugiati con assistenza a Napoli e altre località della Campania, ma soprattutto promozione degli incontri culturali con dibattiti come quelli animati dal professor Antonio Zichichi e dal giornalista Magdi Allan.